Buonasera Avellino, buonasera Avellinesi, ben ritrovati a questo nostro consueto appuntamento, quello fisso del lunedì per fare un po' il punto della situazione rispetto a quello che è accaduto in settimana e questa settimana sono accadute cose straordinarie per la nostra città e chiaramente anche per dare uno sguardo rispetto a quello che accadrà non tralasciando quelle che sono le vostre segnalazioni cominciano tra l'altro già a collegarsi i nostri amici, le nostre amiche che devo dire sempre in maniera molto numerosa seguono sia la diretta sia per la verità ho notato che c'è anche un cospicuo numero di persone che segue questa registrazione anche dopo il live. Bene, cominciamo subito col parlare di quello che è stato e cominciamo dal tema un po' più caldo, quello relativo ai vaccini e ai tamponi, in particolar modo in settimana abbiamo ottenuto in prefettura una riunione molto importante, direi molto proficua, la presenza evidentemente di Soccerenza il prefetto ma con la partecipazione anche di ASL ed esercito e si partirà subito dopo Pasqua, il martedì dopo Pasquetta per l'esattezza con i tamponi per le persone non neambulanti. C'è questa buona notizia, si effettueranno presso la caserma Berardi anche un po' riconsegnando il vecchio rapporto che c'è sempre stato tra la caserma e la città e che il rapporto che invece negli ultimi anni a causa delle modifiche in qualche modo per la verità aveva perso anche un po' di consistenza, non escludo, ma questa è una ipotesi credo anche abbastanza concreta, non escludo che poi una volta conclusa l'operazione di vaccinazione a favore delle persone non neambulanti o con difetti di handicap, insomma rispetto alla deambulazione, non escludo che anche in futuro quella stessa location potrà essere utilizzata come ulteriore centro vaccinale, ripeto questa è una mia deduzione ma immagino che soprattutto tenendo conto del fatto che il commissario sia uomo che proviene da quella carriera militare vorrà profondere il massimo sforzo anche da parte del suo corpo e direi che questa potrebbe essere sicuramente una ulteriore buona notizia per la città e per la nostra comunità evidente che dobbiamo sempre fare i conti col personale che a volte scarseggia perché mi rendo conto che non è facile trovare tanti infermieri, tanti medici, tanto personale paramedico e anche tanti amministrativi in numero sufficiente anche alle dosi che arriveranno. Nel frattempo però noi abbiamo l'obbligo, il dovere di attrezzarci in modo da farci trovare pronti quando dovessimo finalmente avere un numero di vaccini talmente sufficiente da poter effettuare una vaccinazione a tappeto e così debellare in maniera definitiva questo brutto virus con cui stiamo combattendo da anni. Contestualmente legato al discorso della vaccinazione c'è la vicenda tamponi e tamponi rapidi, voi come sapete e poi arriviamo a una delle buone notizie della settimana, li stiamo effettuando su Campo Genova, da un lato c'è l'ASL che effettua i tamponi ai casi positivi e ai contatti con positivi, dall'altro lato c'è il comune che invece effettua uno screening di massa, coloro i quali vengono a effettuarlo per una verifica anche per comprendere rispetto magari a un rischio o un dubbio se c'è la presenza del virus, ebbene l'ipotesi di spostamento di questa struttura per effettuare i tamponi è da Campo Genova per quanto mi riguarda verso l'ospedale Maffucci, voi sapete che insomma questo è uno dei miei obiettivi già noti, già comunicati, avrei voluto utilizzare il Maffucci già durante l'emergenza Covid per ospitare o i pazienti Covid o i familiari dei pazienti Covid, oggi ritengo che possa rappresentare invece una grande opportunità per l'effettuazione dei tamponi, tra l'altro anche dal punto di vista logistico, io ho notato che dalla parte inferiore, insomma venendo dal Campo Goni c'è una stradina nella quale tranquillamente si possono sostare le auto nell'attesa che vengono effettuati i tamponi e poi dalla parte superiore si può uscire, credo che quella stradina possa ospitare non meno di 50 auto, non creando ingorghi sulla provinciale, insomma io ritengo che il Maffucci possa essere la migliore soluzione in questo momento per effettuare i tamponi, una volta che sposteremo la struttura da Campo Genova, credo già domani proverò a contattare il direttore del Moscati, il dottore Renato Pizzuti per magari chiedere un sopralluogo, nel frattempo aspettiamo anche che eventualmente l'ASI possa segnalare a Sua Eccellenza il prefetto qualche luogo, effettuare i tamponi, insomma abbiamo queste due ipotesi in cima alla nostra lista di potenziali siti, vediamo, vediamo, attendiamo, ribadisco, per quanto mi riguarda sarei contento se si potesse utilizzare l'ex struttura del ospedale Maffucci per effettuare i tamponi, anche in questo caso per riappropriarci un po' di quel luogo, per rimetterlo in funzione e credo che anche dal punto di vista pratico del raggiungimento anche del luogo potrebbe rappresentare forse la soluzione ideale in questo momento. Riguardo alla vicenda tamponi, vicenda Campogenova, vi posso comunicare, confermare quanto probabilmente molti di voi hanno letto in settimana, cioè abbiamo trovato una soluzione rispetto al mercato bisettimanale, devo dire si è tenuta sempre in prefettura una riunione che in qualche modo avevo anche provato a promuovere di concerto con il prefetto, alla quale sono state invitate giustamente tutte le sigle sindacali che rappresentano gli ambulanti, ebbene posso dire con convinzione, anche con gioia, ma perché è stata come ho avuto modo di dire scendendo dalla riunione la vittoria di tutti, sicuramente dell'amministrazione, ma direi anche degli ambulanti che possono tornare a lavorare, della città che finalmente può tornare a frequentare un mercato che era chiesto da tempo, si è trovata la soluzione migliore, l'amministrazione giustamente ha visto concretizzarsi la sua strategia, gli ambulanti tornano a lavorare dopo un anno molto complicato, con difficoltà che il covid evidentemente ha acuito, e anche la città potrà riversarsi con distanziamento nuovamente tra i vari stand che il mercato offre, insomma alla fine credo tutti felici e contenti, è stato un anno in cui abbiamo anche rimesso un po' le carte a posto, sarà anche realizzata la graduatoria proprio per i posteggi, insomma credo che possiamo dire tutto bene quel che finisce bene, sicuramente ci sono stati scontri anche accesi, duri ma sempre molto leali e corretti, rispettando ognuno il ruolo che per quanto mi riguarda mi ha conferito la città e per quanto riguarda gli ambulanti è insito nella condizione lavorativa, ma c'è stato sempre massimo rispetto da ambo le parti e anche il clima che abbiamo vissuto proprio durante la riunione in prefettura, ha confermato insomma la volontà di tutti di superare quello che è stato e di arrivare a una soluzione condivisa, finalmente il mercato potrà ripartire e ripartere a Campo Genova. E poi ovviamente c'è la notizia insomma che più mi ha reso soddisfatto perché ci ho lavorato per più di sette mesi, quasi otto mesi, ho cominciato ad avere i primi contatti lo scorso agosto, agosto 2020 con Massimiliano Fuxas, insomma uno degli artisti più famosi al mondo, una eccellenza per l'Italia, un personaggio che rappresenta ad altissimi livelli il nostro paese che è nella top 10 degli archistar, degli artisti, dei professionisti a livello mondiale, ha realizzato opere straordinarie in Giappone, in Cina, in Germania, in Francia, in Inghilterra, in Austria, tantissime opere anche in Italia, insomma una eccellenza assoluta e devo dire con grande orgoglio e con grande soddisfazione sono riuscito insomma a trasferirgli quello che era un po' un nostro sogno, un mio obiettivo, quello di vedere progettata la dogana dal suo estro, dalla sua maestria, dalla sua professionalità, insomma io ho detto vorrei fortemente che fossi tu il progettista della dogana, chiaramente rispetto anche a qualche polemica, è chiaro che la facciata rimane e sarà restaurata ma noi dobbiamo dare un disegno alla dogana che non snaturando l'opera del fanzaco ci mancherebbe insomma. Io capisco che per alcuni questa è una sconfitta perché nessuno, quando ho lanciato l'idea di Archistar, nessuno ha usato neanche immaginare dove sarei potuto arrivare, io lo comprendo, c'è qualche frustrato, disperato che insomma ha subito il colpo perché ha detto ma com'è possibile che il sindaco Vesta addirittura è riuscito in questa impresa epica e ci sono riuscito, chiaramente rappresentando il cuore della mia comunità, il sogno della mia comunità, quello di vedere nella dogana realizzata una opera d'arte che ci potesse rappresentare. Poi è chiaro ragazzi che dobbiamo ancora lavorare sulle case comunali, sulla SFA, lo so, pensate che non sappia queste cose, che la mia amministrazione non sappia queste cose, non ci sono sconosciute, però a ogni cosa il suo tempo è la sua scelta. Stiamo comunque andando avanti rispetto a una ricostruzione che ferma da 40 anni e stiamo provando a completarla tramite le difficoltà. Io periodicamente, diciamo anche quotidianamente, seguo i lavori degli alloggi di Via In Bimbo, di Via De Napoli, di Via Francesco Denesco, delle Sedra di Rione Parco, di Quattrograna, le so tutte perché sono, come dico spesso, sul pezzo ogni giorno, seguo l'andamento dei lavori e non pensiate che mi distragga, assolutamente no, però riesco a essere concentrato e lucido su ogni argomento. Non bisogna tralasciare nulla, va bene parlare delle case comunali, va bene parlare dell'asfalto, tra l'altro devo dire che purtroppo il Covid ci ha un po' penalizzato in questa fase perché abbiamo purtroppo qualche assenza dovuta al Covid, altrimenti avremo anche già cominciato ad asfaltare, ma un grande abbraccio, un grande incoraggiamento e anche un grande in bocca al lupo a tutti quelli che stanno combattendo col Covid in questa fase e in particolar modo a quelli che speriamo tornino al lavoro al più presto per chiudere la partita via Francesco Denesco e asfalto perché eravamo ormai a un passo dalla chiusura di questi due iter, diciamo che il Covid ha colpito anche un po' di nostra forza lavoro, ma sono convinto che con calma tutti supereranno questo momento di contagio e torneranno più forti di prima e insieme a queste nostre risorse umane sicuramente porteremo a termine sia la parte dell'asfalto in città sia la parte dell'iter burocratico amministrativo che ci potrà far consegnare finalmente le case a via Teresco. Dicevo evidente che una cosa sono questi interventi, una cosa è la manutenzione del verde pubblico, le giostrine, però neanche dobbiamo immaginare che la nostra azione si possa fermare lì. Noi stiamo completando tutte le opere pubbliche, il palazzotto, sta avvenendo uno spettacolo di luci, di facciata e questa amministrazione non dico regalerà, ma offrirà alla città una struttura bellissima, così la dogana, ma non ci fermeremo. È chiaro che poter avere Fuxas che collabora con noi è una cosa straordinaria, non può che essere motivo di orgoglio per un'intera comunità. Finalmente ci faremo conoscere, come ho sempre detto a tutti quanti voi e come ho sempre predicato, mio obiettivo è quello anche di far uscire fuori dal perimetro comunale la nostra Avellino, perché noi siamo molto migliori di quello che pensiamo di essere, dobbiamo però tornare a crederci, non dobbiamo piangerci addosso, troppe volte ci lamentiamo di noi stessi, non siamo contenti di quello che abbiamo. Noi dobbiamo recuperare un po' di autostima, dobbiamo convincerci che abbiamo grandi potenzialità e che piano piano riusciamo e possiamo riuscire e dobbiamo riuscire a raggiungere traguardi prestigiosissimi e questa amministrazione, questo sindaco farà sì che questi nostri sogni saranno realizzati. Insomma, la notizia dell'accettazione di Fuxas, dell'incarico che vogliamo conferirgli è stato rappresentato un giorno straordinario, indimenticabile per la nostra città, ma è una buona notizia. Nelle prossime settimane presenterò altre iniziative eccezionali e sarà un crescendo rossiniano. Nei prossimi tre anni noi taglieremo traguardi e raggiungeremo successi e alla fine del mio primo mandato, prima che cominci il secondo avremo già una città molto diversa da quella che ho trovato quando mi sono insediato, molto più bella, protagonista, avremo una grande Avellino. Prima di Pasqua stiamo lavorando per inaugurare, per riaprire Piazza Castello, sarà un piccolo regalo. Atteso però, udite, udite, come ho detto anche durante la diretta e poi ogni volta che magari sono un po' più, diciamo, esplosivo, effervescenti ogni volta, sindaco, i tuoi ragazzi, ma siate in gioia realmente, ma dovete stare bene dentro, dovete vivere un po' più con piacere le vostre vite, ma non vi sta mai bene nulla. Lo dico a quei 40-50, insomma, disperati, frustrati, che oggettivamente capisco che dalla vita hanno avuto poco e riescono sempre a mostrare la propria insoddisfazione. Però sorridete, siate un po' felici. Io spero sempre di riuscire a trasferirvi un po' di positività e anche un po' di ottimismo, un po' di gioia. Sorridete ogni tanto, guardate quanto è bello sorridere, guardate quanto è bello andare a casa tranquilli, sereni, stare con la famiglia. Guardate, guardate, guardate il mio volto e cercate di essere un po' positivi. Ogni volta, muco, ogni polemica, e dai, insomma, siate un po' più contenti e felici. Dicevo, dopo luglio 2012, di fatto aprile 2021, quasi nove anni, riapriremo Piazza Castello. È sicuramente un'altra buona notizia che possiamo intestarci noi come amministrazione festa. Sarà un altro importante successo, un altro tassello. Sì, un tassello. Abbiamo raggiunto ancora tutti gli obiettivi, ma è un altro importante tassello che la nostra amministrazione avrà posizionato. E poi, ragazzi, guardate qui. Io vi ho detto, eccola qui, vedete? Questa è la busta che contiene la sorpresona, soprattutto per i bimbi, per i più giovani, per i figli della nostra comunità. Vi ho anticipato che la sorpresa è qui, è vera, eccola qui, in questa busta. La sorpresa, chiaramente, ve la illustrerò, ve la annuncerò a Pasquetta. Il giorno dopo, perché Pasqua, ragazzi, che che se ne dica, Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Pasqua a casa, chiusi, tranquilli, senza picnic. Lo dico anche rispetto al distanziamento, alla zona rossa, agli assembramenti. Rimaniamo a casa, felici, mangiamo, godiamoci un po' di cucina casereccia, riappropriamoci anche un po' dei nostri antichi sapori. Abbiamo sempre, nelle nostre case, cuoche straordinarie, mamme, mogli, zie, nonne. Insomma, in ogni casa abbiamo delle cuoche eccezionali. Riproviamo anche un po' i nostri sapori irpini e quindi rimaniamo a Pasqua a casa e poi a Pasquetta lunedì prossimo, durante la diretta, scopriremo questa sorpresa. Auspico che molti bimbi, molti ragazzi possano collegarsi per capire di che parliamo. Vi assicuro che sarà un'altra sorpresa straordinaria. Sorprese un po' alla festa. Voi sapete che sto cambiando, grazie anche al sostegno della mia amministrazione, consiglio e giunta, sto cambiando le sorti di questa città. Noi stiamo scrivendo una storia nuova che sarà ricca di successi. E allora, appuntamento a lunedì prossimo per la nostra diretta, il nostro consiglio di appuntamento e per la grande sorpresa. Mi raccomando, collegatevi, lo dico soprattutto, ai bimbi e diciamo ai ragazzi in generale. Buona serata!